È una grande opportunità la disponibilità del vaccino anche in età 5-11 anni. L'approvazione di un vaccino è sottoposta a delle regole molto rigide e attente, che sono delle regole condivise internazionalmente, comuni a tutti gli enti regolatori del mondo. Per cui quando un farmaco arriva a essere approvato e messo a disposizione la popolazione, vuol dire che ha superato tutti quelli che sono i passaggi dovuti per dover arrivare a questo passo. Il vaccino che verrà usato è un vaccino a mRNA, la posologia che verrà usata tra i 5 e gli 11 anni è esattamente un terzo di quella che è stata usata nell'adulto, la modalità di somministrazione è esattamente la stessa, ossia sarà attraverso una iniezione, quindi un intramuscolo, e verranno fatte due dosi a distanza di almeno tre settimane una dall'altra. Credo che bisognerebbe avere maggiore fiducia in quelle che sono le istituzioni, non esistono trial fatti non bene o male o che sono con pochi pazienti o tanti pazienti, esistono delle norme, delle regole che sono validate a livello internazionale per certificare la qualità di ciò che viene poi prodotto, vaccino o farmaco che sia. E questo non è a parere della singola persona, è in risposta alla norma di legge. Le faccio un esempio, se ci sono degli esperti che pensano che forse sarebbe meglio guidare a sinistra in Italia, è un loro parere, ma noi abbiamo una normativa che prevede che si guidi a destra, e quindi pochi o tanti automobili che circolino devono tutte girare a destra. Quindi esistono delle regole che sono ben stabilite, che rispondono a una serie di acquisizioni che sono maturate negli anni per stabilire qual è il numero di soggetti necessari per l'approvazione. Detto questo, è bene anche sottolineare quanto detto dal Presidente dell'AIFA, il Professor Palù, negli Stati Uniti sono state già praticate oltre 3 milioni di dosi, solo negli Stati Uniti, nella fascia d'età 5-11 anni, che non hanno finora avuto nessun tipo di segnalazione di evento e verso maggiore. Ma anche qui va sottolineato che quello che ci deve preoccupare, ed è sorprendente che ci sia chi sottovaluta questo aspetto, la gravità della pandemia e l'aggressività di questo virus. Questo è quello che dovrebbe preoccuparci molto di più. Aggiungo anche che proprio di questi giorni di ieri, credo, la dichiarazione della Merkel, che ha detto che avrebbe piacere che in Germania ci fosse una situazione simile all'Italia. Ricordo a tutti che quando si parlò di introdurre il vaccino dai 12 anni in poi, i pediatri tedeschi espressero delle perplessità su questo. L'Italia si sta dimostrando un esempio per gli altri paesi nella gestione che finora ha avuto e finalmente c'è stata attenzione anche per i bambini, perché i bambini hanno il diritto di essere vaccinati esattamente come gli adulti, hanno il diritto di tutelare la loro salute e il vaccino attualmente è l'unica cosa che consentirà loro di poter avere una vita pressoché normale. Certo, non è escluso che chi è vaccinato possa contrarre l'infezione, ma anche qui va ribadita ancora una volta la distinzione tra infezione, ossia contatto con un germe che non necessariamente dà sintomi, e malattia, ossia il germe che infetta l'organismo e dà malattia. Quindi l'importante è essere protetti dal rischio morte, dal rischio malattia grave, dal rischio malattia. Esistono sicuramente delle categorie di bambini nelle quali è ancora più fortemente consigliato che sono i pazienti fragili. In tutti loro è importantissimo effettuare la vaccinazione perché in corso di infezione i loro rischi sono amplificati da 5 a 20 volte di avere conseguenze gravi. Tant'è vero che tra i 36 soggetti in età evolutiva deceduti, gran parte sono soggetti fragili. Quindi i soggetti fragili devono essere vaccinati più degli altri. Le reali controindicazioni alla vaccinazione sono, penso, veramente rarissimissime, diciamo, i casi di anafilassi, ossia di reazione allergica grave che comporta un rischio di morte imminente. Questo è l'anafilassi. Quindi coloro che hanno sofferto di anafilassi possono vaccinarsi, ma è bene che lo facciano in ambiente tutelato. Quindi devono segnalare il fatto che hanno avuto un anafilassi e devono praticare la vaccinazione in un ambiente protetto. Ovunque venga praticata la vaccinazione esistono tutti i presidi per far fronte a eventuali reazioni. In questi soggetti, per ulteriore cautela, è bene andare in centri specialistici dove si fanno le cosiddette vaccinazioni a rischio.